Trasmissione numero 111 2110 I suoni provengono da spazi vuoti Energia atomica Le luci artificiali illuminano scenari artificiali Le attività umane sono legate al funzionamento di apparati meccanici Il lavoro manuale è stato eliminato Esseri umani terminali di funzioni elettroniche Macchine complesse e perfezionate Luci artificiali illuminano scenari artificiali Produzione di energia Luci della città Silenzio Fine delle trasmissioni Grazie a tutti Grazie a tutti